Ciao, buongiorno a tutti, oggi parliamo di come bloccare i lavori all'uncinetto. Allora intanto cominciamo a dire cosa si blocca di solito, bloccare vuol dire proprio come vedete tendere i lavori in modo che assumano poi una posizione più stesa e perfetta. Di solito si fa con le mattonelle granny ma non solo, ad esempio si fa anche con altre tipologie di lavori, tipo dei lavori con dei punti particolari che tendono poi ad arricciarsi un pochettino e invece stesi presentano bene il loro disegno, come anche in questo caso. Ad esempio la rete è uno di questi lavori, questa è anche una granny ma insomma diciamo tutte e due le cose oppure si fa spesso anche con gli scialli, quindi sia con lavori piccoli che con lavori grandi. Si usano varie tipologie di basi per bloccare i lavori e diverse tipologie di sistemi per stendere bene la lavorazione. Allora andiamo a vedere, qui vi faccio vedere una base, una base in legno che ho preso su Temu dove, ne ho già parlato in un altro video, vi lascio il link qui sotto, dove si trovano questi prodotti a dei prezzi più bassi rispetto agli altri shop online. Però devo dire che questa base funziona molto bene, è una base che misura 20 cm quindi va bene per mattonelle fino a questa dimensione di grandezza e ha anche il suo supporto, eccolo qua, per metterla in verticale. E devo dire che mi ha favorevolmente colpita perché con poco più di 10 euro, mi pare 13-14 euro, ho già ottenuto una base ottima con gli spilli diciamo, queste parti qui, questi spilloni metallici. Non ce ne sono tanti, infatti poi vi faccio vedere come aumentarli senza doverne comprare degli altri e diciamo che funziona molto bene. Quindi prezzo contenuto perché queste basi possono costare anche 30-40 euro, anche 50 e quindi diciamo che così ho contenuto i prezzi ma ho una base professionale. Allora, per fare il bloccaggio ci sono tre modi principali, io ne ho aggiunto un quarto, in genere si bagna il lavoro e poi si stende in questo modo, quindi si prende una granny, adesso io qua ne ho una non bloccata, vedete che è più arrotondata diciamo, non ha ben i lati ben tesi, ben dritti e gli angoli ben dritti come queste bloccate, vado a inserirla nei vari spilloni che ho preparato e tendo anche lei. Prima di inserirla devo o bagnarla e strizzarla molto bene e poi inserirla qua e lasciarla asciugare stesa, oppure posso spruzzarla, quindi bagnarla spruzzando, la seconda del tipo di filato cambia un pochettino perché ad esempio il cotone anche spruzzandolo si impregna di acqua e quindi assorbe l'acqua e quindi poi spruzzato e bloccato è già sufficiente. Mentre invece ad esempio con il lavoro in acrilico e in lana è un pochino più difficile, è meglio metterli in una ciotola con dell'acqua, strizzarli bene e poi piazzarli. C'è un altro sistema che è col vapore, quindi col ferro da stiro però bisogna stare attenti a seconda del filato a non avvicinarsi troppo perché ad esempio i filati acrilici o di lana si possono rovinare, soprattutto gli acrilici, si possono rovinare se il calore viene avvicinato troppo e quindi bisogna stare un pochino attenti. Non si stirano direttamente perché sennò l'alternativa potrebbe essere stirandoli, schiacciandoli col ferro, proprio perché schiacciandoli col ferro si schiaccia proprio il punto e non rimane più bello. Se volete provare potete fare una prova appunto magari con un campione, ovviamente che non sia di acrilico ma che sia di altri tipi di filato, ad esempio un campione di cotone, potete vedere che nella parte dove avete stirato diventa proprio piatto e bruttino rispetto al resto. Si steso, si ma brutto, appiattito, rovinato. Quindi si usa solo il vapore a una certa distanza e non il ferro sopra appoggiato. Un'altra alternativa che io uso per tutti i lavori che non devono essere indossati o che non vengono a contatto né con la pelle né con ad esempio alimenti o cose del genere è il bloccaggio con la lacca. Io uso questa lacca splendor che si trova un po' dappertutto ed è anche molto economica, è una lacca fissaggio forte. Io la uso ad esempio molto per le mattonelle con cui poi realizzo delle borse e invece di bagnarle non bagno niente ma spruzzo la lacca sul retro, le blocco sul retro, spruzzo la lacca e lascio asciugare. In questo modo, adesso ve ne faccio vedere una che è già bloccata così, ecco, questa ad esempio è bloccata in questo modo, quindi vedete che mantiene comunque una morbidezza anche se è un pochino più rigida, adesso voi non potete toccarla, ma è un pochino più rigida rispetto a questa ma è comunque molto morbida e si blocca perfettamente, quindi si stende perfettamente e rimane anche leggermente più rigidina. Quindi è un sistema perfetto per le borse ad esempio o oggetti di questo tipo, quindi progetti di questo tipo va molto bene. Questi sono i quattro modi e appunto serve per avere un lavoro più teso, però più perfetto diciamo. Direi che ho detto tutto, vi ho parlato della tavoletta, vi lascio qui sotto il link anche a questa tavoletta qui. Che va molto bene, ecco avevo detto che gli spilloni, vedete che questi sono in metallo così lunghi, sono quelli di queste tavolette, ovviamente si possono usare anche altri tipi di tavolette, ad esempio io uso delle volte il polistirene, prima di comprare questa tavoletta usavo molto spesso il polistirene con gli spilli in acciaio, oppure si possono sempre usare dei piani morbidi, spessi e morbidi dove poter puntare appunto con gli spilli in acciaio. Questi aghi, questi spilloni, qui in questa indotazione, in questa tavoletta ce ne sono un po' pochi, questa è l'unica cosa negativa di questa tavoletta, però è molto semplice risolvere il problema, perché basta prendere degli spillini di bambù di diametro 3 mm, eccoli qua, io li ho comprati, costano 95 centesimi, quanto sono? 70 di questi spillini, eccolo qua che ne ho già uno inserito, ed ecco qua che li potete utilizzare al posto, potete anche tagliarli col tronchese, io infatti l'ho un po' tagliato alla lunghezza che volete, e potete inserirli tranquillamente a sostituzione di questi di metallo, quindi sono intercambiabili, per cui per aumentare la quantità vanno benissimo, se ce ne fossero pochi in dotazione come in questo caso. Direi che ho detto tutto, se avete domande sul bloccaggio potete lasciarmene qui sotto nei commenti, vi lascio tutti i link in descrizione video e nel primo commento, e ci vediamo prestissimo con delle altre idee. Ah, vi lascio anche il link di questa mattonella bellissima, esagonale tipo filet, lo lascio sempre qui sotto, ci vediamo alla prossima, ciao! Grazie a tutti!